benvenuti su veie games iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per non perdere la priorità acquisita a la 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 Il mio lavoro è finito. Il phoenix entrustato con la nostra gente è ora completato. Il momento del destino è arrivato. Vai con il che prende il phoenix, Shenhua, e trovi il proof. Dimentichatevi al luce e andate. I shall give you the family treasure, the sword of seven stars. Think of the sword as a part of me, and keep it with you. I shall always watch over you. What the... Lio. Right. Lio. 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 In una strada distante in l'estero, da un'acqua, si avvicina. Non sapeva la fortuna che lo scopriamo dentro. La fortuna che lo destruirà, la fortuna che lo riuscirà i nostri voli. Quando si è pronto, mi farà fuori. E noi ci saranno insieme il passato rosso. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.